Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Castel del Monte, fortezza del XIII secolo voluta da Federico II, situata nell'attuale Parco Nazionale dell'Alta Murgia a 540 metri sul livello del mare, patrimonio dell'umanità. La realtà che vi presentiamo oggi nasce in questo territorio per l'esattezza d'Andria, detta anche la città delle tre torri. In realtà si tratta di tre campanili che idealmente dialogano tra di loro, collegando le tre chiese principali della città. La cattedrale intitolata Maria Assunta, la chiesa di San Domenico e il complesso di San Francesco. Continuando il nostro viaggio tra i gesti concreti del progetto Policoro, da Andria vi parliamo di comunicazione con il protagonista del giorno. Come vi chiamate? Fabio Dario Di dove siete? Andria Che lavoro fate? Gestiamo un'agenzia di comunicazione. Il vostro motto? Aggiorna la comunicazione. E comunica responsabilmente. Bene Dario, allora con te la prima parte, l'intervista, parliamo di marketing, di pubblicità. Mi viene in mente lo slogan, la pubblicità è l'anima del commercio. Forse questo slogan assume maggior significato, soprattutto negli ultimi tempi grazie al digitale, che apre un po' alla possibilità a tutti, chiunque ha una connessione, sa magari smanettare un po' qualche software, rispetto quindi anche all'idea di lanciare un'idea, di proporre, di promuovere un prodotto. Sì, questa è una grande verità, però allo stesso tempo è un onere per chi si occupa di comunicazione. Mi spiego meglio, oggi effettivamente il digitale dà la possibilità a tutti di cimentarsi in questo bel settore, però effettivamente bisogna avere una conoscenza approfondita di quelle che sono le dinamiche della comunicazione, sapere come costruire un messaggio efficace che possa raggiungere un obiettivo. Quindi sicuramente è un aspetto importante che non tutti magari conoscono e approfondiscono. Certo, il digitale ha aiutato la comunicazione ad ampliare il proprio raggio d'azione e a far sì che possa entrare in contatto con più gente. Il digitale ci consente di avere una numerica importante, cioè colpire un target di riferimento. Oggi possiamo effettivamente conoscere quante persone guardano e entrano in contatto con i nostri prodotti, la nostra pubblicità ed è più semplice per certi versi colpire il bersaglio. Però bisogna riflettere anche sul modo in cui si colpisce questo bersaglio, perché se non si utilizza un messaggio efficace, anche eticamente corretto, molto spesso non si raggiunge alcun obiettivo. Dario, sul vostro sito leggo, letteralmente leggiamo, il logo di un brand deve rispecchiare la politica e l'insieme dei valori che contraddistinguono un'azienda. Parliamo quindi di valori, un concetto, una categoria che ci rimanda sicuramente a questioni etiche, educative. Però poi sembra, guardando pure la pubblicità per televisione, che a volte una certa comunicazione amplificata tende a mettere in discussione quello che potrebbe essere il concetto di verità, che dovrebbe stare alla base di ogni buona e eticamente fondata comunicazione. Sì, questo è un discorso molto ampio da affrontare, cerco di sintetizzarlo il più possibile in due battute. La comunicazione deve essere etica, all'università inserono anche una bella materia che è etica della comunicazione, fondamentale. E oggi più che mai anche il cliente finale o lo spettatore, chiamiamolo cliente, ha tanti elementi da poter valutare. È difficile prendere in giro una persona proponendogli un prodotto, spacciando un prodotto per qualcosa che non lo sia. Oggi più che mai occorre una comunicazione veritiera. Su cosa bisogna concentrarsi? Bisogna concentrarsi sull'esaltare le peculiarità di un prodotto, di un'azienda. Più si è veritieri, più si colpisce nel senno e si ottiene un risultato positivo dal punto di vista del marketing. Come farlo? Sicuramente rispondendo alle esigenze di un consumatore. Un'azienda dovrebbe avere ben in mente quali sono le esigenze, i bisogni del proprio target e cercare il più possibile di rispondere a quelle esigenze con i propri prodotti o con i propri servizi. Semplice a dirsi, è molto più difficile a farsi perché qui poi subentra la creazione di contenuti interessanti, subentra la pubblicità emozionale, subentrano tanti aspetti da tenere in considerazione. Oggi il consumatore non ha bisogno di propaganda, assolutamente, non ha bisogno di essere spronato all'acquisto, va emozionato, va coinvolto. Oggi la parola d'ordine è coinvolgimento. E quindi come coinvolgere una persona se non con aspetti veritieri e che una persona possa piacere? Sempre su vostro sito ho letto, la pubblicità resta nella mente se riesce a dare una risposta ad una esigenza. Per l'appunto, sì. Mi viene in mente la relazione che c'è tra domanda e offerta. Però mi chiedo, a volte non è la pubblicità che stimola la domanda, che provoca la domanda, quindi sono delle esigenze indotte? A volte può capitare che succeda questo, però nel 99,9% di casi, mi viene da pensare, si tratta sempre di una risposta ad un'esigenza. Anche lì dove nascono nuovi prodotti o nuovi servizi, lì stiamo effettivamente rispondendo ad un'esigenza magari inconscia, magari non consapevole. Quindi nasce un prodotto dallo studio di tutto ciò che occorre ad una persona. Anche i nuovi prodotti, anche i nuovi servizi innovativi nascono dallo studio di quelle che sono le esigenze della persona, di ciò che potrebbe servire ad una persona. Assolutamente. Sino a qualche decennio fa non avevamo primi pronti o pietanze in supermercato da poter preparare in pochi minuti. Da dove nasce l'innovazione? Da dove nasce la creazione di quel prodotto? Dall'aver notato che probabilmente nella nostra società non c'è più tempo per cucinare, o magari non c'è più voglia di farlo. E quindi nasce questo prodotto. Anche dal punto di vista tecnologico nascono nuovi prodotti perché probabilmente ci si rende conto che l'uomo ha bisogno di qualcosa in più. Quindi io lo considero sempre come una risposta ad un'esigenza. Assolutamente. Sì, a tal proposito, quindi questa esigenza che può essere anche educata, potrebbe essere anche un punto di forza. Penso ad esempio alle pubblicità Progresso. Sì, assolutamente sì. Lì però parliamo di un qualcosa di diverso. Quindi la società si rende conto che va veicolato un messaggio, quindi non è una risposta ad un'esigenza, ma è un veicolare un messaggio per ottenere un obiettivo finale. Dario, siete nati con il progetto Policoro, tra poco ne parliamo. Quindi ci muoviamo anche, credo, nell'ambito di quelle che possono essere delle attività messe in essere dalla Chiesa in ambito pastorale, ad esempio. Allora mi chiedo, è possibile coniugare marketing e pastorale, attività educativa? C'è un prodotto, tra virgolette, da vendere, tra virgolette sempre, per utilizzare il linguaggio autoreferenziale, in questo caso rispetto alla tua materia, che potrebbe essere anche il Vangelo, il messaggio, i valori di fondo? Ma assolutamente sì, considera che la Chiesa negli ultimi anni, ma questo immagino si sia diventato un domino pubblico, ha snellito la propria comunicazione, si rivolge sempre di più ai giovani e lo fa con un tono diverso rispetto al passato. Anche lo stesso Papa ci sta insegnando questo e sta utilizzando anche dei canali social per farlo. Utilizza un linguaggio diverso perché è consapevole di parlare a giovani, a ragazzi. La morale va bene, ma probabilmente va fatta in un secondo momento, probabilmente quando hai acquisito la fiducia del giovane, quindi hai modo poi di entrare più in profondità e nel dettaglio e spiegare tanto altro. Un po' ciò che avviene per la comunicazione di un'azienda. Se noi non consideriamo un'azienda affidabile, sicura, che possa fare al caso nostro, noi non l'ascoltiamo, non ci interessano i loro prodotti. La stessa cosa accade per la chiesa o per la parrocchia o per la piccola comunità, quindi dai livelli più alti a quelli un po' più piccoli, più ristretti, se vogliamo. Quindi va sempre fatto questo lavoro. Appunto i giovani, il nostro programma si rivolge innanzitutto a loro. In base naturalmente alla tua esperienza, a quello che hai potuto costruire anche con Fabio, ti sentiresti di proporre ai giovani, nello spirito di quello che è anche uno degli obiettivi del nostro programma, questo tipo di attività, lavorare nel mondo della comunicazione? Beh sì, assolutamente sì, c'è spazio per tante nuove figure, c'è ancora tantissimo da fare in questo settore. Noi usciamo dire ai nostri collaboratori o a persone che ruotano intorno alla nostra agenzia che bisogna essere imprenditori di se stessi, anche da collaboratori. Quindi oggi anche il termine posto di lavoro secondo me dovrebbe essere messo in un bel ripostiglio e messo sotto chiave, perché non bisogna lavorare perché si è costretti a farlo, ma bisogna lavorare per dare un valore aggiunto alla società, può essere fatto in ambito comunicativo e non solo. Se rompiamo questo cliché e finalmente ci consideriamo tutti collaboratori di un qualcosa di più grande, probabilmente anche l'ambito lavorativo potrebbe migliorare. Ritornando alla Chiesa, l'ultima domanda che ti pongo, il progetto Policoro l'abbiamo nominato prima e il contributo che ha portato personalmente alla vostra esperienza, in che legami quindi siete anche con la Chiesa locale? Siamo in ottimi rapporti, la nostra realtà è nata da questo progetto, quindi abbiamo voluto sin dall'inizio mantenere questo cordone ombelicale ancora attivo, infatti comunque garantiamo delle ore di formazione in occasione di corsi particolari che il progetto richiede, quindi vogliamo dare sempre dimostrazione della nostra presenza e della nostra realtà, frutto del progetto stesso, quindi assolutamente manterremo questo impegno anche nei prossimi anni. Bene Dario, l'intervista è terminata e adesso come vuole il nostro programma vi vedremo un po' all'opera nel vostro ambiente. Va bene. Grazie a tutti. Rieccoci, siamo con Dario, stiamo parlando di marketing e comunicazione naturalmente rivolgendoci ai giovani e non solo, secondo quello che è lo spirito del nostro programma, Dario di cosa ci parlerete adesso? Sì, ora entriamo nel dettaglio, vi mostreremo in che modo abbiamo gestito la comunicazione per due attività differenti, quindi vi mostreremo in che modo si può attuare una strategia di comunicazione simile in due modi differenti. Sì, come diceva Dario prima, ora vi mostreremo due attività differenti, una cantina di vini e una sala di ricevimenti. Questa cantina di vini è specializzata nel vino sfuso, quindi cosa vuol dire? Siamo partiti lì per quanto riguarda sia il nome, che volutamente è generico e fa riferimento comunque alla famiglia che ha creato e ha fondato l'azienda, ma soprattutto nella creazione del logo ci siamo concentrati proprio su questa particolarità dell'azienda, cioè sullo sfuso. Quindi non immaginavamo qualcosa o qualche riferimento grafico a una bottiglia, a un cavatappi o banalmente a un grappolo d'uva, ma abbiamo giocato un po' sull'idea dello sfuso nelle botti, nelle botti di legno. Ecco perché nel pitogramma del logo, il pitogramma non è altro che quell'immagine grafica associata a un logo che poi diventa identificativa del logo stesso. Quindi nel pitogramma del logo abbiamo giocato su le tre varianti di vino, il rosso, il rosato e il bianco, che quasi rappresentano e vanno a rappresentare all'interno di questa botte un cielo, quindi un sole e le terre, cioè terre in cui viene prodotto il vino. Ed è proprio questa idea qui del rappresentare l'azienda all'interno di una botte di legno che poi abbiamo trasportato nella creazione anche del packaging del bed in box, che non è altro che una scatola con all'interno una sacca piena di vino con un rubinetto. Quindi l'idea era quella di portare sulle tavole dei clienti una piccola botte di vino, quindi simulare questo e quindi ricollegarlo sempre a quella strategia di comunicazione che in questo caso ovviamente fa riferimento all'identità visiva dell'azienda stessa. Per poi concludere tutto il percorso della strategia di comunicazione anche con la comunicazione sul sito web, quindi la creazione del sito web e la comunicazione dell'azienda online, puntando soprattutto sulla conversione e quindi sull'acquisto dei vari prodotti, che sia vino sfuso o bag in box, da parte degli utenti. Mentre come seconda attività parliamo invece di una sala di ricevimenti completamente differente come settore rispetto all'azienda di vini, ma con le stesse esigenze comunicative. Anche qui siamo partiti dall'ideazione del nome, quindi la ricerca del nome anche in base al territorio e in base soprattutto agli obiettivi aziendali, quindi in questo caso gli obiettivi della sala di ricevimenti, gli obiettivi anche di target futuro. Quindi individuato il nome abbiamo lavorato sul logo. Logo che ovviamente quando lavoriamo su un logo, quindi sull'identità grafica di un'attività, abbiamo bisogno comunque di tutte le informazioni possibili e immaginabili. Quindi abbiamo bisogno anche di visitare l'attività stessa, per far sì che tutta la comunicazione, sia grafica e non, sia collegata anche all'attività stessa. Quindi l'utente finale che si trova a guardare un logo o a guardare una campagna di comunicazione, si ritrovi poi, nel momento in cui visita l'attività stessa, ritrovi quelle cose che ha già visto nella comunicazione. Ecco perché abbiamo pensato di riprendere nel pitogramma del logo questa forma quadrata. Dato che la sala e ciò che la circonda si sviluppa molto su questa forma geometrica qui, sul quadrato, abbiamo pensato di riprendere questa forma qui e di incastrarci all'interno la rappresentativa del nome stesso, cioè l'iniziale del nome stesso, collegandola poi completando il logo con un payoff in lingua inglese per dare un tono più alto all'attività stessa, quindi cercando un posizionamento più alto. Successivamente abbiamo sviluppato ovviamente tutto la brand identity, dalla carta intestata, al bigliettino da visita, a una brochure di presentazione e al sito stesso. Anche nel sito stesso abbiamo comunque seguito un percorso vero e proprio. Quando si visita una sala di ricevimenti si parte dall'ingresso, quindi quando ti mostrano una sala di ricevimenti partono dall'ingresso, ti mostrano le varie aree esterne per poi concludere la visita all'interno della sala stessa. Abbiamo trasportato questa idea qui anche sul sito web, cioè partiamo dalle aree verdi, quindi dal viale, cioè il visitatore visitando il sito parte dalle aree esterne, quindi dal viale, dal parco secolare, per poi concludere la propria visita all'interno della sala, parlando anche della cucina di questa sala. Tutto questo per facilitare le visualizzazioni e quindi chiarire subito all'utente finale i punti di forza dell'azienda, ma senza mostrare il tutto, tutta la sala, quindi lasciando comunque quella curiosità che poi porterà l'utente stesso, in questo caso il target sono futuri sposi, a contattare la sala e a chiedere un appuntamento. Dopo aver definito tutta la parte dell'identità visiva e aver creato il sito web, ci siamo concentrati sulla campagna di comunicazione, sviluppata sia sul web con uno spot video, che nelle affissioni, quindi nella comunicazione offline, quindi con l'outdoor. In entrambi i casi abbiamo cercato di mantenere quell'area di curiosità e quindi portare poi l'utente comunque a visitare la sala per scoprire il tutto. Ancora oggi ci occupiamo della comunicazione, ma volutamente ci concentriamo solo sui social e sul web per far sì, per colpire il target che comunque è interessato alla sala, quindi all'obiettivo finale del cliente, cioè portare i futuri sposi a visitare e eventualmente a confermare quella sala. Complimenti Fabio, grazie per questa conoscenza, questo insegnamento che ci hai dato, sul quale tutti potremo arricchirci. Siamo alle battute finali. Dario, Fabio, se volete aggiungere qualcosa, noi non possiamo fare altro che ringraziarvi per la vostra disponibilità. Beh sì, sicuramente un messaggio conclusivo, assolutamente sì Fabio. Sì, sì, il messaggio che ci teniamo a lanciare è che come è successo per noi, che dove siamo tornati qui al sud, soprattutto Dario che comunque era a Milano ed è tornato qui ad Andrea, la speranza non è morta, c'è lavoro anche qui. L'importante è volerlo, l'importante è avere la volontà di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, che non sia la solita vita o la routine che ci impongono. O la solita attività, no? Sì. Idee chiare, obiettivi ben fissati nella propria mente e voglia di raggiungerli. Come dicevamo prima, poi per concludere, sicuramente con l'obiettivo di fare è di essere imprenditori un po' di se stessi, perché altrimenti è molto difficile insomma crescere nella società odierna. Sì, questo è il consiglio che diamo ai nostri collaboratori e anche ai ragazzi che vengono quando ci sono dei colloqui, eccetera. Cioè non vi preoccupate del quanto guadagnerò, quante ore devo lavorare, ma è sentire quel lavoro proprio anche se alla fine sei tra virgolette solo dei dipendenti. Sì, questo è il consiglio che è stato molto importante. Grazie a tutti.